Viesti Per esempio chiediamo cosa farà Antonio Viesti Sindaco per recuperare e rivitalizzare il nostro centro storico? Premettendo che il nostro centro storico credo che abbia una varietà un po' di situazioni perché comunque credo che avere un centro storico dislocato in diverse zone della città quindi non essendo un centro storico omogeneo in un'unica zona credo che nell'ambito anche di quello che il nostro programma abbiamo inserito nel programma nell'ambito dei programmi appunto della rigenerazione urbana è fondamentale credo che sia fondamentale una partecipazione un po' attiva da parte di chi dovrà rivitalizzare ed esaltare le potenzialità del centro storico quindi uno degli obiettivi fondamentali è quello di sistemare un po' a zone quello che può essere il centro storico della città partendo da quelle zone chiaramente che sono già ben messe e quindi poi agire diciamo per step in modo da poter creare quelle condizioni di sviluppo del centro storico che tutti ricerchiamo questo facendo partecipare un po' tutto attraverso una partecipazione anche di un concorso di idee attraverso attraverso le scuole perché comunque le scuole credo attraverso gli studenti possano dare dei segnali e possano comunque dare la possibilità all'amministrazione che verrà di tante idee che possono essere poi messe in campo dall'amministrazione stessa quindi credo che questo sia uno degli aspetti più importanti poi oggi il nostro centro storico va rivitalizzato anche da un punto di vista di quello che è la popolazione perché comunque c'è stato un esodo da parte di tanta gente che abbandona il centro storico e questo lo si fa attraverso la promozione di tante attività piccole artigianali e produttive e quindi uno degli obiettivi è quello di far sì che ci possano essere degli incentivi per chi possa poi voler investire nel centro storico e quindi creare le condizioni ideali perché nel centro storico si possa poter tornare a fare attività produttive anche di piccolo artigianato Cosa farà Antonio Viesti Sindaco per valorizzare lo straordinario patrimonio storico e paesaggistico delle nostre gravine? Beh uno degli obiettivi che credo un po' ci siamo posti già da questa amministrazione è quello della fruibilità credo che sia uno degli obiettivi più importanti rendere fruibili e quindi attrarre un po' e questo credo che sia collegato poi con quello che abbiamo detto prima riguardante il centro storico attraverso la fruibilità di un percorso che possa portare poi a rendere appunto le gravine e le nostre bellezze visitabili anche attraverso un progetto di illuminotecnica che comunque già in parte è stato avviato attraverso un piccolo percorso con delle luci che segnano un po' questo tracciato in modo da poter creare un circuito dove il turista possa poi arrivare e poter fruire di queste bellezze ma non mi riferisco solo a quello che è la gravina legata al villaggio di Santa Marina ma un po' tutta la nostra gravina anche quella che arriva fino al santuario della Madonna della Scala uno degli obiettivi può essere quello di rendere fruibile quel percorso legato alla via dei Crucifissi che nonostante venga ancora praticata però non è nelle condizioni di poter essere vissuta al meglio della nostra città Cosa farà Antonio Viesti Sindaco per rendere più fruibili ed attrattive le località balneari del nostro territorio in primis Chiatone e Verdemare? Beh lì comunque credo che la problematica sia abbastanza seria perché credo che un po' tanto si è già fatto per quanto riguarda Verdemare forse un po' meno Chiatone però credo che lì veramente si tratti di difficoltà di tipo strutturale e credo che uno degli obiettivi fondamentali è quello di andare a intercettare credo dei fondi, dei finanziamenti sia a livello regionale che europeo perché si tratta appunto di andare a modificare uno stato di cose che credo sia ormai conosciuto sotto gli occhi di tutti quindi l'impegno è quello, credo che l'amministrazione che verrà non avrà vita facile nel poter, bisogna essere onesti non credo sia semplice risistemare un qualcosa che atavicamente è partito in un modo sbagliato mi riferisco soprattutto a Chiatone ma è chiaro che forse il miglioramento della viabilità e di quello che è anche l'arredo urbano di Chiatone con la sistemazione del lungomare e quindi uno sfruttamento migliore di quel bellissimo arenile che c'è possa essere uno degli obiettivi principali di chi poi deve amministrare abbiamo questa fortuna di avere comunque oltre che le colline il mare quindi a breve distanza e quindi credo che questo poi possa fungere da volano appunto di attrazione turistica sempre collegato a quel discorso che abbiamo fatto prima e quindi rendere anche la nostra costa attraente così come lo sono tante altre coste vicine Ambiente sviluppo, un annoso problema per la nostra provincia molto sentito anche nella nostra città far convivere l'industria e l'impresa con l'ambiente l'idea e la proposta di Antonio Viesti, sindaco Beh io credo che il Dici fondamentalmente per quanto riguarda questo aspetto noi nel nostro programma appunto abbiamo messo in evidenza soprattutto come ci può essere questa interazione che deve essere ormai indispensabile tra il pubblico e quindi tra l'amministrazione e il privato perché si tratta di abbassare un po' quelle che sono le soglie dell'inquinamento attraverso anche una serie di iniziative perché noi non pensiamo e credo che non sia necessario pensare solo a quello che può produrre la grande industria ma anche tutto quello che viene fuori da un inquinamento legato alle polveri sottili nel nostro programma sono state inserite perché è avvenuto anche in altre città del nord la piantumazione di piante che possono attrarre le polveri sottili e quindi ridurre la soglia dell'inquinamento così come potrebbe essere quello di una migliore circolazione quindi può abbassare anche lì il livello dell'inquinamento legato ai gas di scarico delle automobili che spesso addetta anche di studi molto recenti e importanti inquinano più di quello che può inquinare una grande industria il tema è un tema scottante credo che il nostro territorio abbia subito già tanto a livello di impatto ambientale e credo che sia giusto e sia doveroso in questo momento così come è avvenuto in questi ultimi anni dire basta, basta quello che può essere un continuo insediamento di altri tipi di attività che possono produrre e possono creare problemi alla salute dei cittadini credo che è fondamentale sottolineare che non credo ci sia qualcuno che non abbia a cuore la salute appunto dei cittadini e quindi l'impegno è quello di tenere alta l'attenzione monitorare con attenzione tenendo presente quelli che poi sono i compiti e i ruoli di ogni istituzione spesso l'amministrazione viene additata, qualsiasi amministrazione in tutti i modi però ci sono delle situazioni che non hanno e non fanno riferimento poi alla capacità, alla possibilità di intervenire da parte di un'amministrazione perché ci sono enti superiori che comunque governano alcune situazioni quindi anche questo interfacciarsi, far sentire la propria voce confrontandosi cercando di far capire che comunque credo che ormai Massafra è satura da questo punto di vista e credo che il segnale da dare deve essere un segnale deciso e un segnale forte Raccolta rifiuti, un argomento sempre d'attualità che interessa il vivere quotidiano del cittadino al netto dei risultati raggiunti il servizio va sicuramente migliorato anche per garantire una maggiore e costante pulizia delle strade possibilmente senza gravare sulle tasse Il sindaco Antonio Viesti come intende operare su questo tema? Cosa farà di concreto nei primi mesi di mandato? Nei primi mesi di mandato sicuramente riprendendo il tema della raccolta rifiuti quindi in questo caso la raccolta differenziata che è stata utilizzata quindi il porta a porta spinto io credo che non ci sia tanto un problema legato a quello che è stato investito come somme di denaro in questa raccolta perché credo che ci siano delle difficoltà di partenza in ogni tipo di città dove la raccolta differenziata di questo tipo è stata effettuata quindi credo che fondamentalmente qualcosa cambierei perché tornando all'origine tornando all'origine perché credo che se un errore è stato fatto per quanto riguarda la raccolta differenziata è stata la partenza è una partenza credo un po' affrettata dove il coinvolgimento della città che poi doveva subire questo cambiamento che io ritengo culturale l'impostazione credo sia stata sbagliata quindi io la prima cosa che farei considerando il fatto che i risultati che si sono raggiunti sono già abbastanza considerevoli però credo che ancora tanto va fatto così come hai detto tu riguardo alla pulizia delle strade quindi impegnare maggiori risorse cercando di non gravare sulle tasche dei cittadini quindi cercare di trovare dove ci possono essere delle sacche di spreco per poter impegnare quelle somme e quindi per una maggiore pulizia appunto proprio ramazzare le strade però credo ripeto tornando alla raccolta differenziata che quel cambio culturale va ripreso vanno incentivate tutte le persone che oggi ancora non fanno la raccolta differenziata o che comunque a livello culturale non hanno subito questo cambiamento vanno incentivate attraverso l'impegno di una serie di associazioni abbiamo tantissime associazioni di volontariato sul territorio che possono fare opera di divulgazione di quasi preparare un po' il cittadino prepararlo a quello che ancora non è pronto a far capire l'importanza di quanto possa essere importante per tutti sia da un punto di vista del risparmio economico soprattutto proprio di un cambio di civiltà un cambio culturale di quello che avviene nella nostra città e quindi le associazioni possono farsi carico in collaborazione con l'amministrativo di quest'opera di divulgazione che va completata sicuramente nelle scuole è mancato questo passaggio fondamentale oggi notiamo in tante famiglie che sono i bambini su iniziative proprio delle scuole che incitano i propri genitori a far sì che si possa differenziare quindi credo che questo è quello che andrebbe fatto andrebbe ripreso per far sì che poi quel percentuale possa continuare a crescere a salire e far diventare Massafra uno dei comuni con la più alta percentuale di differenziata che credo sia l'obiettivo un po' di tutti quanti Opere pubbliche ed infrastrutture elenchi almeno tre opere che ritiene indispensabili e sulle quali si impegnerà il sindaco di Massafra Antonio Viesti Bene, il nostro programma oltre a portare a termine quello che poi sono le fasi previste per l'attuazione del Pug che credo che poi rappresenta un po' il volano un po' anche dello sviluppo delle opere di una città appunto la quale poi vanno a emergere ed emergeranno sicuramente tutte quelle che sono poi le priorità di tipo strategico anche in ordine allo sviluppo sostenibile del territorio quindi già credo che il completamento e il portare a termine il Pug poi darà un po' le linee guida di quello che può essere lo sviluppo sostenibile e strategico nel nostro territorio quindi credo che quello sia uno degli aspetti più importanti così tenendo un po' fede a quelle che sono state anche delle mie volontà che poi magari in questi anni non sono riuscito a mettere in pratica uno di questi sicuramente è quella di una pista ciclabile cittadina è una delle volontà che rientra in uno del nostro programma chiaramente andando a verificare poi quelli che sono i posti e le risorse economiche da investire e poter realizzare questa pista ciclabile cittadina nel nostro programma ci sono una serie di iniziative nuove chiaramente noi andiamo a indicare anche perché credo che questo sia determinante perché il programma non possa poi essere il solito libro dei sogni ma qualcosa di realizzabile dove poter andare a ricercare le somme per poter realizzare questi progetti che non sono progetti megagalattici ma che sicuramente vanno a modificare l'attenzione e il vivere di una comunità poi un sogno quello di un centro polivalente sportivo su un terreno che possa essere di proprietà comunale anche con investimenti pubblico privato comprendendo i spazi di aggregazioni sociali che poi possono essere piazze per i giovani ma che comprendono anche degli spazi per i diversamente abili questo è nel nostro programma creare uno spazio che non sia più insomma uno spazio aperto di aggregazione dove tanti ragazzi anche diversabili possono essere lì e socializzare tra di loro e quindi avere uno spazio operativo questo diciamo è quello che come opere credo siano quelle più facilmente realizzabili rispetto a quelle che poi possono essere opere infrastrutturali ben più importanti anche quello di dotare lo stadio di un manto sintetico è un'opera che vogliamo fare perché non ce n'è stata la possibilità ma non tanto per un discorso di volontà politica ma a volte quando si amministra ci si rende conto il vendito dall'interno che avere la disponibilità economica e magari non poterla utilizzare perché comunque questo può gravare su un patto di stabilità e quindi poi creare degli squilibri che portano poi ad aumentare le tasse per i cittadini quindi poi uno riesce a si ferma e capisce che ci sono cose molto più importanti però credo che anche quello è un qualcosa perché credo che lo sport insieme a quello che può essere rendere agibili un po' tutte le strutture sportive che noi su cui noi siamo messi abbastanza bene come comune abbiamo un centro polivalente sportivo abbiamo il plazzetto dello sport uno stadio con due campi si tratta di andare a completare questo cerchio abbiamo fatto tanto in questi anni per la promozione dello sport forse non abbiamo squadre ad alto livello però credo che andare vorrei proseguire l'opera che in quel settore ho portato avanti quello di comunque promuovere lo sport in sicurezza andare la possibilità a tutti i ragazzi di poter partecipare in un ambiente sicuro in un ambiente idoneo a svolgere le attività sportive Il Carnevale per molti rappresenta una grossa occasione mancata dal punto di vista turistico ed economico ed anche un'opportunità negata per i tanti maestri cartapestai Cosa farà Antonio Viesti Sindaco per dare questa opportunità ai giovani e rendere finalmente il nostro Carnevale capace di competere con gli altri più celebrati ed importanti? Il Carnevale è anche questo un argomento credo importante io credo che sul Carnevale sia arrivato il momento questo è il mio pensiero vivendo il Carnevale dall'interno come assessore anche allo spettacolo in cui il Carnevale ci entra alla grande credo che sia arrivato il momento del tutto o nulla questa è la mia opinione o Massafra, l'amministrazione e quindi questa è la nostra volontà decide di investire sul Carnevale facendolo diventare il vero brand della città oppure credo che così non possa essere portato avanti perché credo che un Carnevale in queste dimensioni in cui l'amministrazione investe delle somme anche cospicue che comunque non bastano mai per l'impegno e il lavoro che i cartapestai ci mettono per sfilare un giorno due giorni se va bene altrimenti per le condizioni meteorologiche quasi sempre c'è una sola giornata di sfilata credo che ormai non possiamo più permetterci questo lusso di investire quelle somme per quello che avviene così come è avvenuto in questi anni dico tutto nulla perché forse lo sforzo di fare qualcosa in più magari creando una struttura insieme ai cartapestai che oggi sul territorio collaborano con noi e che amano il Carnevale lo rendono ancora vivo attraverso le loro opere creare un pool di persone mettere insieme una strategia comune che possa partire in modo anche come dire chiaramente non immediato ma in modo graduale si possa arrivare a concertare insieme quelli che possono essere poi le metodologie migliori per far crescere tanti giovani che si sono avvicinati al Carnevale in questi anni servendosi chiaramente dell'esperienza e dell'abilità anche di chi il Carnevale ormai lo fa da tantissimi anni dire i capannoni sarei scontato ma io non me la sento di dire che Viesti farà i capannoni ci sto ho delle idee ho delle idee che credo di che forse più in là anche durante questa campagna elettorale potrò mettere in campo e confermare solo se sono sicuro di poter così come faccio un po' in tutte le mie cose di poter avere la certezza o un'idea ce l'ho di come dove e come poter fare delle strutture per rendere appunto agibili il lavoro di queste di questi di questi maestri cartapestai però vorrei essere certo di poter avere la certezza di poter realizzare proprio dal punto di vista economico ci sto lavorando e credo che se questo accadrà prima della campagna che il Carnevale finisca potrò magari annunciare quello che intendo altrimenti credo che non sia opportuno fare delle promesse che poi si fanno in ogni ogni campagna elettorale dicendo che tanto nei primi cento giorni costruiremo i capannoni sono passati vent'anni che io vi ricordi almeno da quando io faccio politica attiva e questo non è ancora avvenuto però credo che le condizioni ci siano e c'è gente disponibile a collaborare però ripeto in una condizione diversa il Carnevale o diventa il brand importante per cui la città di Massafra si deve caratterizzare oppure credo non sia opportuno e bisogna riflettere se vale ancora la pena continuare a investire tantissimo denaro pubblico per il Carnevale Le sue priorità nei primi cento giorni di amministrazione? Beh, priorità io nel mio programma chiaramente una serenità sociale della città che credo che abbiamo bisogno di una di una riappicificazione politica penso un po' a tutti i livelli quindi siccome credo che anche questo questo scontro che ormai nella città si sta verificando con tanti candidati sindaci porterà inevitabilmente a un dopo elezioni abbastanza caldo quindi andare a riappacificare appunto socialmente la città però io credo una delle priorità e questo credo si possa fare appunto in tempi brevi è una delle priorità che sta nel mio programma appunto tra i punti prioritari uno è quello dei delegati di quartiere credo che ci stiamo pensando abbiamo riflettuto bene il programma è stato stilato da tanti amici professionisti che a cui va il mio ringraziamento perché hanno fatto veramente un bel lavoro e credo che i delegati di quartiere sia una cosa fattibile dividere Massafra in zone e far sì che consiglieri comunali o assessori possano essere delegati a gestire una zona di Massafra che ormai vive di realtà talmente differenti ed è diventata così espansa da avere anche problematiche differenti il delegato di quartiere può essere una soluzione per gestire da vicino le esigenze di ogni singolo cittadino del quartiere e quindi credo che questo possa essere un vantaggio per la risoluzione di piccoli problemi un'altra cosa che nei primi 100 giorni farei quello di andare a recuperare un po' quello che la centralità della casa comunale credo che debba essere riportata la casa comunale lì al palazzo dei notari Stefani perché credo che sia il il fulcro del centro della città il sindaco deve essere lì che poi si possa spostare per un discorso di fattibilità o di dall'altra parte perché ci sono gli uffici però credo che veramente bisogna ridare al centro storico e quindi a palazzo della città quella centralità che credo meriti è altra cosa possibile nei primi 100 giorni è quello di andare a istituire perché credo che sia una carenza non più sostenibile all'interno dei dipendenti comunali una ristrutturazione ma soprattutto un ufficio che credo manchi e che è quello legato alla ricerca dei fondi dei finanziamenti da parte della comunità europea Di cosa non si è parlato in questa intervista che invece costituisce un passaggio importante dell'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Viesti? Beh no credo che abbiamo toccato un po' tutti quei sono i temi fondamentali forse un aspetto di cui non si è parlato è quello riguardo il sociale oggi Massafra vive uno stato sociale difficile e quindi credo che solo quello che si fa fino adesso l'assistenzialismo oppure attraverso l'aiuto a tante famiglie bisognose credo che non basti più nonostante tanto si è fatto perché adesso così con i piani di zona tante famiglie vengono per fortuna seguite agevolate attraverso le diverse forme che le amministrazioni regionali e comunali mettono in atto quindi forse non si è parlato tanto di questo bisogna trovare anche delle forme diverse per far sì che quello stato sociale che continua a crescere come difficoltà da parte di tanti tanti nostri concittadini possa essere affrontato anche in modo diverso attraverso un aiuto che non sia solo quello ripeto dell'assistenzialismo puro ma anche di qualcosa che possa concretamente poi aiutarli a uscire da quello stato di crisi in cui oggi versano quindi questo credo che sia uno dei punti forse che non si è toccato nell'intervista e probabilmente anche quello che io credo sia importante per l'immagine di una città di quello che può essere il decoro urbano viviamo di realtà anche io giro un po' per il mio lavoro di realtà che ma non solo vicino a noi ma anche fuori dove tante associazioni che così come noi abbiamo tantissime associazioni contribuiscono a mantenere alto il decoro urbano di una città rotatorie prese in cura da parte di associazioni ville zone a verdi dove che non bastano mai giochi parchi giochi per bambini che sono curate e tenute diciamo tra virgolette a lucido da parte di associazioni o amici imprenditori che comunque si impegnano a tenere verde a tenere pulito questa zona e quindi credo che questo possa essere veramente un qualcosa di importante Massafra è una bellissima cittadina però è sporca e quindi e comunque ci sono molte zone che hanno bisogno di essere rivitalizzate di essere ripulite riqualificate quindi credo che questo il decoro urbano sia un aspetto importante per la gente che viene da fuori tanta gente viene da fuori a visitare Massafra e trovare una città con con del rotatore con dei fiori rispetto a delle erbacce credo che sia un qualcosa di completamente differente quindi credo che veramente bisogna far sì che ci sia la partecipazione da parte di tutti io voglio concludere solo con questo che sarà uno dei motivi del diciamo del mio cavallo di battaglia per quanto riguarda la campagna elettorale ho coinvolto tante associazioni anche nelle mie liste nel mio gruppo di amici che mi danno una mano per questa campagna elettorale credo che quello che è mancato e che di cui questa città ha bisogno sia la partecipazione la parola partecipazione credo che sarà all'ordine del giorno di ogni mio intervento e di ogni mio comizio pubblico la gente ha voglia di partecipare lo dimostrano tante liste che non sono da condannare grazie a tutti grazie a tutti